per capire o o l l la dio o l l i ho preso dammi una mano come tira o l l la dio dammi una mano that quote bellezza ma non tira più mi hai fatto perdere il pesce o l l l e tu hai detto che tirava era una spicola no era una rata non la mano proprio fratro ORAZIO ORAZIO, il fratello E tu, quanti ne conosci?